Introduzione allievito madre Io sono Andrea Di Giglio, chef e pasticcere, professionista dal 2004. Attraverso i miei videocorsi formativi aiuto le persone in pasticceria a diventare molto più brave come pasticcere professionista. Infatti mi sono preso il compito di creare videocorsi professionali ma spiegati in modo semplice. Abbiamo videocorsi sia per chi parte dalle basi per appassionati o aspiranti pasticceri e per corsi ancora più intermedio avanzati per chi vuole diventare bravo come un pasticcere professionista. Infatti qui sotto nel link in descrizione troverai corso di pasticceria di base, pasticcere levitata dove vedremo piccoli e grandi levitati, pasticceria moderna dove vedremo le torte, torte classiche, torte moderne, pasticcere da forno, torte da forno, cake, biscotteria, crostate. Quindi un po' tutta la pasticceria raggruppata in questi videocorsi con lezioni online dove puoi accedere alle video lezioni, alle ricette e quindi diventare molto più abile in pasticceria. Se hai qualche dubbio, domanda o perplessità o se ti vuoi scrivere direttamente trova il link qui sotto. Se invece hai qualche dubbio qui sotto trovi il tasto per parlare su whatsapp direttamente con il centro assistenza per capire magari quali sono i percorsi più adatti a te. Ad ogni modo partiamo con questa lezione sul lievito madre. Faremo varie lezioni sul lievito madre, quindi questa è semplicemente un'introduzione, poi faremo il video magari su le differenti gestioni del lievito madre. Partiamo un attimino. Che cos'è il lievito madre? Il lievito madre è un insieme di batteri e lieviti all'interno di un impasto che dà vita poi al classico impasto che sviluppa, si gonfia e quindi permette ai nostri impasti di lievitare. Il lievito madre quindi è un insieme di batteri, nello specifico batteri lattici, batteri acetici e lieviti. In termine tecnico questo si chiama protocooperazione, cioè i batteri che sia sono nell'aria, sono un po' nella farina, si nutrono di farina perché l'impasto è acqua e farina, fondamentalmente il lievito madre è un impasto semplice, acqua e farina, ma all'interno questi batteri e lieviti si nutrono dell'amido della farina, bevono l'acqua, quindi sviluppano e riescono a produrre. Ad esempio, batteri lattici, acido lattico, batteri acetici, acido acetico, lieviti CO2, aniride carbonica. I batteri e i lieviti contenuti al lievito madre danno vita poi ai nostri impasti. Ad esempio, noi conosciamo ormai il panettone con lievito madre, ma si può utilizzare anche per lievitazione mista come viennoserie, come cornetti, bomboloni, panna cioccolà, eccetera, grandi lievitati, piccoli lievitati, quindi il lievito madre si può utilizzare in pasticceria veramente in vari modi, anche semplicemente in panificazione o in pizzeria. Quindi abbiamo capito che il lievito madre è una massa di batteri e di lieviti che dà vita spontaneamente a fermentazioni. Il lievito madre è affascinante. Ci sono miti da sfatare perché molti pensano che sia difficile da gestire. In verità, dalla mia esperienza, nulla è difficile quando lo conosci e tutto è difficile quando non sai cosa stai facendo. Quindi è normale che le prime volte è difficile, ma se non hai le informazioni giuste, ovviamente ti risulta difficile. Quando invece tu hai le informazioni giuste e riesci a capire cosa sta succedendo all'interno di un impasto, la gestione del lievito madre non è difficile. Ok, ovviamente ci vuole attenzione, come tutte le cose, però non è difficile. Il lievito madre, molti pensano che sia che lo gestisci nel sacco, quindi legato all'interno di un sacco di juta con la corda, o metodo milanese, sia che lo gestisci metodo piemontese, cioè in acqua, sia che lo gestisci liquido, licoli, lievito a coltura liquida, sia che lo gestisci libero, cioè all'interno di un vasetto o di un contenitore, è la stessa cosa. In verità non è la stessa cosa perché ogni lievito ha un microbiota diverso. Il microbiota, appunto, l'insieme dei batteri e dei lieviti. Il microbiota ce l'abbiamo anche nell'intestino, ok? Noi abbiamo un chilo, un chile e mezzo di batteri all'interno dell'intestino, che è infatti il microbiota e sono proprio loro che poi determinano la salute o la malattia della persona, non solo ma anche loro, quindi la stessa cosa nel lievito madre. Sono loro che determinano la salute o la non salute del nostro lievito madre. Questi batteri e lieviti, come dicevo, si nutrono di acqua, bevono acqua e mangiano farina, un po' come noi, mangiano e bevono. Bisogna vedere il lievito madre un po' come una persona. Mangia, si riposa, beve e si può allenare, può fare palestra, può fare sport. Quindi ha dei momenti dove si può far lavorare e dei momenti che si deve riposare. Ha dei momenti che può mangiare e lavorare e momenti che deve riposarsi. Questo è il concetto di base. Il lievito madre, le differenti gestioni hanno un microbiota diverso, cioè hanno una flora all'interno diversa, che dà vita a prodotti diversi, ok? Quindi non si può dire che una gestione in acqua è uguale a una gestione nel sacco o un licolì è uguale al lievito libero. Sono prodotti, escono fuori dei prodotti diversi perché il microbiota all'interno è diverso e quindi si producono sostanze diverse all'interno. Poi lo vedremo piano piano nei video successivi. Questo è un video introduttivo. Se vuoi approfondire, poi qui sotto c'è il video corso pasticciera levitata che ti spiega tutto nei minimi dettagli. La cosa bella poi in questo percorso è anche la mia assistenza. Quindi per qualsiasi dubbio, domanda o perplessità, all'interno dei miei percorsi puoi scrivermi e io ti rispondo. Quindi ogni gestione del lievito ha un microbiota diverso. Le percentuali di acqua vanno a influire su questo microbiota. Le temperature vanno a influire su questo microbiota. La quantità di farina usata per i rinfreschi va a influire su questo microbiota. Quindi, una volta creato il nostro lievito madre, innanzitutto bisogna decidere se lo si vuole solido o liquido. La gestione solida, che ha meno idratazione, di solito si gira intorno tra un 45 e un 50% di idratazione. Cioè cosa vuol dire? Una volta formato il lievito madre, mettiamo che l'avete già formato, poi nel corso vi spiego perfettamente come fare, però mettiamo che abbiamo già il lievito madre pronto, possiamo decidere di gestirlo solido, quindi un impasto più duro, o liquido, quindi in crema. La gestione solida può essere gestita in acqua, metodo piemontese, quindi lo si lascia in acqua, soprattutto per il riposo notturno. Ecco, durante la giornata, mentre si fa lavorare, la gestione sarebbe meglio a secco, non in acqua. Poi c'è la gestione libera, semplicemente il lievito si prende, si mette in un contenitore stretto e alto, in modo che fa forza, e si lascia a secco, quindi, non all'interno dell'acqua, e quindi cambia già un lievito che è in acqua, o un lievito che è libero, cambia tantissimo. Oppure si può gestire nel sacco, quindi come è sempre stato fatto, che è il classico lievito proprio dei lievitisti, cioè si mette all'interno di un panno, si lega con una corda, e anche lì è un microbiota completamente diverso, perché lì poi la presenza di ossigeno si riduce. Oppure si può gestire in crema, quindi con altre idratazioni, un po' più liquido, e si chiama LICOLI, lievito a coltura liquida. Ogni tipo di questo, ogni lievito, come ho detto, è diverso, quindi non si può usare uno vale l'altro, ok? Perché le percentuali di acqua, che ad esempio nel LICOLI sono idratato tendenzialmente al 100%, poi c'è che l'idrata al 90%, si sta tentando di fare al 90% di acqua, perché così sviluppiamo meno l'attico, eccetera, adesso non mi voglio approfondire in questi discorsi, un LICOLI che è idratato al 100%, generalmente ha più lieviti, perché più acqua c'è, ma questo in tutti gli impasti lievitati, più acqua c'è, più i lieviti sviluppano. In un lievito madre, ad esempio, tenuto libero, ok? Con un'idratazione o libero o nel sacco, ha ovviamente una flora diversa di un LICOLI, perché è un'idratazione minore, quindi è più, sicuramente i lieviti sono meno rispetto a un LICOLI che è più idratato. La gestione, ad esempio, del lievito madre piemontese che è in acqua, ha un'acidità diversa di uno nel sacco. Quindi ti sto facendo capire, semplicemente in un video introduttivo, e poi magari faremo dei video specifici, che le diverse temperature, le diverse proporzioni di farina che si usano per infreschi, le diverse percentuali di acqua, vanno a influire sul nostro lievito madre. Il lievito madre, quindi, come ho detto, una volta creato il lievito madre, che si può fare anche semplicemente con acqua e farina, in modo spontaneo, oppure si può usare dell'uvetta sultanina, che sono frutto oligosaccaridi, a buccia di mela, lo yogurt, sono tanti modi per far partire semplicemente lo starter, si può usare anche la crusca, farina integrale, la segale, insomma, acqua e farina miscelati insieme, già si potrebbe partire così, meglio l'uvetta frullata, di solito uso questo metodo, lasciata, diciamo, a temperatura ambiente, per 36 ore, 48 ore massimo, lei inizia a acidificare, i batteri dentro iniziano a mangiare l'amido della farina e l'acqua, si rinfresca, quindi si mette di nuovo acqua e farina, loro continuano a moltiplicarsi, nell'arco di 15 giorni in lì colì, 30 giorni in lievito madre, rinfrescandolo quotidianamente con acqua e farina in percentuali diversi, in base a cosa bisogna fare, al trentesimo giorno, generalmente si ha una madre, non proprio prontissima per fare i panettoni, però, che rinfrescatta successivamente, ci dà già una bella soddisfazione, ovviamente un lievito madre, che ha più mesi, o più anni, non vuol, ecco, aperta parentesi, chiusa parentesi, non vuol dire che se ho un lievito madre da 40 anni, allora vuol dire che ho un lievito madre 40 anni fa, perché il lievito madre, ogni volta che si rinfresca, si rigenera, ok, quindi è un lievito madre, come posso dire, non si può dire che ho un lievito madre 40 anni fa, sicuramente si può dire che è un lievito madre, che da generazioni viene tramandato, però il lievito, ogni volta che si rinfresca, è un lievito, tra virgolette, rinnovato, ovviamente i batteri e i lieviti, sicuramente andranno a contaminare la nuova acqua e farina, però è un lievito che viene rinnovato, ok? A questo punto abbiamo capito che semplicemente questa pasta acida, una volta rinfrescata per 8 giorni, dà vita al lievito madre, e poi può essere gestito, come ho detto, in acqua, libera, nel sacco, o in licoli. In base alla gestione abbiamo detto che c'è un microbiota diverso, e quindi saper utilizzare il lievito madre per il tipo di prodotto che vogliamo fare noi, e capire la funzione degli ingredienti, la percentuale delle farine, la percentuale di acqua, fa tutta la differenza nel mondo, se vogliamo ottenere un equilibrio in questo lievito, e mantenerlo poi nel tempo, avendo poi dei risultati spettacolari, perché il lievito madre è veramente meraviglioso. Quali sono i vantaggi di utilizzare un lievito madre rispetto al lievito di birra? Beh, un lievito madre sicuramente aumenta la shelf life, cioè la conservazione, grazie soprattutto all'acidità lattica, aumenta il gusto, perché si sviluppano molecole aromatiche, rispetto a un lievito di birra semplice, aumenta, quindi la conservazione sicuramente, se utilizziamo ad esempio solo lievito di birra, il prodotto si secca subito, perché c'è solo il saccharomycia cerevisia che è un lievito, che consuma molto zucchero, quindi si secca subito. Con un lievito madre abbiamo più gusto, abbiamo una migliore shelf life, abbiamo una conservazione, abbiamo una protezione dalle muffe. Se facessimo un panettone con solo lievito di birra, sicuramente si seccherebbe prima e potrebbe andare incontro a muffe se non è stato fatto tutto correttamente, mentre invece se utilizziamo il lievito madre, siccome si abbassa il pH di questo impasto, lui stesso va a uccidere tutti i patogeni, quindi abbiamo anche un effetto antimuffa. Se usiamo il lievito madre abbiamo anche maggiore morbidezza del prodotto, quindi il lievito madre ha tantissimi vantaggi. Ovviamente un panettone che può durare anche 30 giorni, ok? Poi lasciamo stare monodigliceri, eccetera, per conservarlo, mesi, eccetera. Però un panettone con lievito madre un mese lo fa bene. Se voi lo fate con il lievito di birra, dopo 15 giorni inizia a diventare secco, inizia a sgretolarsi, ok? Ovviamente poi ci sono tante sostanze che si possono utilizzare, però in questo è linea di massima. Bene, io diciamo che per un'introduzione del lievito madre abbiamo capito, il lievito madre è un insieme di batteri lieviti che hanno una cooperazione tra di loro, che vivono all'interno dell'impasto, che questo impasto lo possiamo gestire in vari modi e che i vantaggi del lievito madre sono tanti. Quindi abbiamo detto la conservazione, abbiamo detto la shelf life, la protezione antimuffa, la morbidezza, il gusto, il sapore, quindi sicuramente migliore rispetto a utilizzare solo il lievito di birra. Ma questo non vuol dire che il lievito di birra non va bene. Il lievito di birra è ottimo, se lo si sa usare è ottimo. Però il lievito di birra o il lievito compresso si chiama, e dico lievito di birra perché di solito per capirci è il cubettino che si trova al supermercato, quello è Saccharomyce cerevisa che poi è un lievito, anche lui, però lui è un lievito singolo che fa più che altro produzione, fermentazione alcolica e quindi consuma più zucchero e quindi il prodotto si secca prima. Mentre invece se usate il lievito madre c'è i batteri e quindi i batteri tendono a fare acido lattico, acido acetico che danno sia gusto che conservazione. Questa è la differenza. Bene, se vuoi approfondire ovviamente questo percorso e vuoi imparare la pasticceria lievitata sia dai piccoli grandi lievitati all'interno del percorso che trovi qui sotto pasticceria lievitata abbiamo piccoli lievitati, grandi lievitati, gestione e lievitazione solo ad esempio lievito madre per fare il panettone o lievitazione miste, lievito di birra, insomma c'è tutto quello che ti serve per diventare veramente bravo come un pasticcere e anche le lezioni tecniche che ti insegnano tutte queste cose qui. Ad ogni modo questa lezione è terminata, faremo altri video per capire nello specifico lievito madre in acqua, lievito madre in sacco, lievito madre libero, lievito madre in iculi per approfondire. Quindi se sei interessato ai miei percorsi qui sotto c'è il link, puoi parlare con la mia assistente per capire quali sono i percorsi più adatti a te. Ci vediamo quindi alla prossima lezione. Ciao!